Ciao, sono Lena, Lena Arva, sono modella e attrice. Ho iniziato a fare la modella quando avevo sei anni e da lì non mi sono mai più fermata. Ho fatto le passerelle in tutto il mondo, a Tokyo, a Los Angeles, a New York, a Londra, a Parigi, a Milano. Però da sempre la mia più grande ambizione era quella di fare l'attrice. Quindi ho capito che anziché questo, serviva anche questo e la bravura. Quindi ho detto, mettiti a studiare. Ho iniziato con un corso di edizione in Italia e successivamente a New York con la Film Academy, in cui sono stata seguita da dei coach veramente importanti, e Londra e Barcellona con un corso di teatro che ho fatto con il regista Arnau. Successivamente dalla teoria sono passata alla pratica. Quindi il primo set, un film horror, The Night of the Zombies, in cui ho partecipato anche Dario Argento e ho avuto un ruolo di co-protagonista. Quindi mi sono veramente divertita tantissimo. Parlo molto bene l'inglese, addirittura conosco l'angolo americano, cosa difficilissima da imparare, il francese e lo spagnolo. Vi faccio vedere i miei profili. Grazie a tutti.